Il final di fila di Morata, che comunque ho già segnato, lui a Voglia, anche dopo quella esultanza è un po' polemica. No, l'esultanza non l'ho vista. L'importante è che abbia fatto gol e come ne ha fatto tutti, devo fare delle scelte. Oltre a Morata che sta fuori ci sono altri giocatori che sono stati fuori e che non sono entrati. E l'importante è che stiano bene tutti perché ho bisogno di tutti. Questa sera, oltre alla qualità tecnica della Juventus, è in campo anche il cuore? Per vincere le partite ci vuole il cuore, ci vuole lo spirito giusto, il sacrificio e questo Juventus, oltre alle qualità tecniche, ce l'ha. Un aggettivo per Buffon? È immenso. Ha parlato di una Fiorentina che forse meritava di più, è così? Sì, è una Fiorentina che se avesse pareggiato non avrebbe rubato niente, però il calcio è questo. Direi che stasera per noi è stato, per i ragazzi è stato un premio per quello che hanno fatto. Domani guarderà Roma-Napoli? No, lo guarderò perché c'è un allenamento. Grazie.